La piacevole sensazione di guidare baciati dal sole e con il vento nei capelli, l'esperienza di guidare un'auto decappottabile è ancora oggi una delle migliori che si possano fare al volante di un'auto. Ma quali sono le migliori cabrio del 2022? Scopri la nostra classifica. La classifica delle migliori cabrio 2022. Nella nostra personale graduatoria ci sono auto che cercano di trasmettere emozioni e grandi sensazioni a 360 gradi. Per cui possiamo trovare delle sportive di razza con due posti secchi, delle Gran Turismo o delle cabrio un po' anticonvenzionali. Ecco la top 10 delle migliori cabrio 2022 Maserati MC20 BMW Serie 8 Mini cabrio Volkswagen Tiroc cabrio Leabart 695 cabrio BMW Z4, Mosda 1010-5 Mercedes classi cabrio Smart Fortu cabrio e Caudi TT Roadster Maserati MC20 cabrio. Dedichiamo il primo posto di questa classifica a un modello tutto nuovo. inedito e strabiliante. Stiamo parlando di una fuoriserie dal motore centrale, la Maserati MC20 cabrio che arriverà sul mercato nel corso del 2022. A disposizione ci sarà il motore V6 Nettuno da 3,0 litri, abbinato alla trazione posteriore e al cambio automatico a doppia frizione e 8 marce. Decisamente invitante. BMW Serie 8 cabrio. Una gran turismo a cielo aperto, questa è la BMW Serie 8 cabrio, una magnifica rappresentazione di eleganza e prestazioni. La tecnologia e il comfort non mancano per donare un'esperienza incredibile ai suoi occupanti, mentre il piacere di guida è elevatissimo. Come vuole la tradizione del marchio. Il rombo è incredibile specialmente con il motore 4,4 litri V8. Mini cabrio. Non è importante che sia One, Cooper, o Cooper S, la mini cabrio mantiene sempre alta la bandiera del divertimento, che si innalza ancora di più quando si apre il suo tettuccio in tela. Un'autodinamica è compatta, con cui danzare tra le curve ma che può benissimo essere sfruttata su un lungo mare per gustarsi il paesaggio intorno. Volkswagen Tiroc Cabriolet. Nessuno si sarebbe immaginato che il crossover di Wolfsburg avrebbe avuto anche una sua versione a cielo aperto, ma la sorpresa ha colpito nel segno. La Volkswagen Tiroc Cabriolet è una vettura non convenzionale, che coniuga i vantaggi di un SUV compatto con le qualità intrinseche di una cabriolet. Merita un posto speciale nella nostra classifica, per chi cerca lo stile fuori dal coro. Abarth 695 Cabrio. Quanto sia divertente la Abarth 595 o 695 lo sanno tutti ormai, ma quanto è ancora più bella da scoperta forse non tutti lo sanno. La Abarth 695 Cabrio fa assaporare ancora di più il suo carattere sportivo e il rombo del suo motore 1,4 T-Jet, che inebria l'abitacolo con imperituro fascino. Una Cabrio da gustare e guidare. BMW Z4. Una Roadster pura, due posti secchi, trazione posteriore, bel design feeling stradale eccezionale. Questi sono gli ingredienti del successo della BMW Z4, che può essere scelta con motore 2,0 litri da 4 cilindri, o con il più possente 3,0 litri 6 cilindri in linea. In ogni caso il divertimento è assicurato. Mosda 1010-5. Una dinastia che dura da più di 30 anni. Una Roadster sicura, affidabile e divertente, dove tutto è al posto giusto. Motore frizzante e autosnella, trazione posteriore e dinamica di livello. Questa è la Mosda 1010-5 che ancora una volta si conferma come una delle migliori proposte tra le auto scoperte. Mercedes Classe C Cabrio. Elegante e raffinata, la Mercedes Classe C Cabrio ha tutte le caratteristiche che deve avere una stella di Stoccarda. Brillante e divertente, questa decapottabile sa essere una piacevole compagna di strada per la guida a cielo aperto. Smart Forto Cabrio X. Piccola e scattante, ideale per chi anche in città non rinuncia ad aprire il tettuccio e godersi i raggi del sole dentro all'abitacolo. La Smart Forto Cabrio X si conferma una delle migliori proposte per la guida in plein air. Adesso in listino ha solo la motorizzazione elettrica, che dona ancora più spinta e dinamicità. Audi TT Roadster. Chiudiamo la classifica con una cabrio compatta e sportiva come l'Audi TT Roadster. Due posti secchi e un motore sempre pronto a spingere, specialmente quando si sceglie il 2,5 litri con 5 cilindri. Un'auto che sa divertire ed emozionare.